A Messina arriva il primo K.O. del Pescara di Zeman, una sconfitta meritata per i biancazzurri rinunciatari e sovrastati fisicamente e nel gioco dai siciliani che hanno offerto una prova di grande intensità. Malemora e compagni e due passi indietro rispetto alle prove con Juve Stabia e Gelbison bisogna cambiare marcia ad iniziare dalla gara di domenica prossima con la Turris. Il tecnico Boemo considerando le tre gare in otto giorni fa un po' di turnover, in difesa si rivede Cancellotti dopo la squalifica a centrocampo con Rafià squalificato e Craia e Jaboua out. Il Boemo conferma Germinario con Palmiero e Mora, mentre in attacco con l'Escar ci sono Merola e Colai. Fra i siciliani che giocano con il 4-2-3-1 in campo, l'ex Antonino Ragusa si gioca in un pomeriggio molto ventoso e con la pioggia di fronte a 1800 spettatori con circa 30 incomiabili tifosi biancazzurri giunti in Sicilia. Al secondo minuto subito lavoro per Plizzari con la conclusione velenosa di Ibrahima Balde e la parata in calcio d'angolo dell'estremo abruzzese. I primi minuti vedono la pressione dei peloritani che spingono a favore di vento al dodicesimo tiro di Lescano per il Pescara deviato in corner da un difensore locale. Partita condizionata dal meteo e dal terreno allentato per la pioggia. Dopo una lunga fase di stanca e avara di emozioni al quarantesimo c'è un lampo del Delfino con la palla a Merola che da 18 metri mette però la sfera di poco a lato. Tutto qui il primo tempo che si chiude sul risultato d'occhiali. Nella ripresa al quarto pronti via Messina in avanti con Ibrahima Balde che riceve palla in area e calcio da posizione centrale con la divazione di Mesic che inganna Plizzari che non può nulla. I padroni di casa passano in vantaggio Messina 1, Pescara 0, gelo nella formazione di Zeman con i biancazzurri che sono così costretti ad inseguire in condizioni non facili. La formazione ospite reagisce al sesto con la punizione di Palmiero ed il colpo di testa di Brosqua, colpo sicuro ed il miracolo di Fumagalli che respinge quasi distinto. Biancazzurri che provano ad attaccare ma il pressing peloritano è asfissiante e crea problemi all'undici ospite. Il tecnico del Pescara cambia Colai e mette in campo Cuppone al ventunesimo però c'è un errore di Plizzari e Mesic in area Kragol grazie a Biancazzurri non andando alla conclusione. Male il Pescara che commette errori a ripetizione con i siciliani molto determinati. Il risultato è che il Messina non deve neanche faticare molto per tenere il vantaggio di misura ed anzi nel finale prova a segnare il gol del raddoppio. Al trentatresimo Perez infatti chiama al salvataggio in corner Plizzari, al trentasettesimo il entrato Zuppel in area. Manca di poco il bersaglio grosso, poco dopo si infortuna Cancellotti che lascia il campo a Crescenzi. Il Pescara rischia anche al quarantesimo ancora con Zuppel che di testa schiaccia la sfera a lato. Finisce con cinque minuti di recupero e con la vittoria meritata per i siciliani che vedono la salvezza diretta. Per il Pescara è una brutta sconfitta con il pensiero che va già la gara di domenica con la Turris. Una gara a questo punto da vincere a tutti i costi per salvaguardare almeno il terzo posto.